buona giornata amici oggi è sabato 20 novembre 2021 iniziamo la giornata leggendo i giornali ci sono tante notizie oggi sui quotidiani il resto il carlino e il corriere adriatico vedremo a che punto è la sanità ma anche leggeremo notizie di cronaca e vedremo anche come poi la città si prepara ad affrontare diciamo così a permearsi anche diciamo meglio l'atmosfera del Natale ebbene cominciamo come sempre però a vedere qual è il santo del giorno facendo gli auguri a coloro che portano il nome di questo santo e poi il meteo oggi è santo edmondo santo edmondo ci sono persone che si chiamano mondo mondino eccetera insomma santo edmondo era un santo inglese visse nel nono secolo ovvero nell'epoca in cui fervevano le lotte tra gli inglesi e i vichinghi fu molto venerato in inghilterra era figlio di re alckmond di sassonia poi adottato dal re dell'istanglia ai tempi dell'assalto dei danesi edmondo combatte molto i nemici del suo popolo ma venne sconfitto fu fatto prigioniero e a lui fu chiesto di rinnegare la sua fede perché insomma i vichinghi avevano ancora la religione del mito ma egli rifiutò e allora fu ucciso trafitto dalle frecce ecco perché è un martire dunque santo edmondo figlio del re d'inghilterra alckmond di sassonia bene passiamo ora al meteo vediamo quali sono le previsioni del tempo vediamo che ci sono nuvolette ma anche sole insomma oggi la giornata non è come quella di ieri è un pochino più incerta ma dovrebbe comunque essere una giornata assolata giornata pressoché soleggiata soprattutto al pomeriggio dicono le previsioni locali banchi di nebbia sulle valli e sulle coste le minime sono sempre in calo e oggi veramente più freddo rispetto alla giornata di ieri allora passiamo alle notizie sui quotidiani a partire dalla prima pagina del corriere adriatico calma un anno fa era peggio il titolo di apertura del quotidiano vuole significare che la situazione della pandemia comincia sì è grave perché in realtà siamo entrati siamo ormai pressoché nell'inverno però non è come un anno fa gli effetti vaccini ricoveri sono sette volte di meno per la cabina di regia siamo ancora a rischio moderato comunque è deciso da sabato 4 dicembre si riaprirà anche l'hab di gradara le farmacie comunali lanciano l'appello e poi la fotonotizia a centropagina perché peppina è diventata un'icona chi è peppina? peppina era quasi una centenaria avrebbe compiuto tra non molto i cento anni però non c'è riuscita è deceduta ed è la nonnina che si era rifiutata di abbandonare la sua casa dopo il sisma che ha colpito il sud delle Marche è morta a 98 anni la nonnina del sisma le tre notizie a centropagina del Corriere Adriatico riguardano Pesaro sui bussi vigilanti nelle tratte calde a rischio bullismo un rimedio di cui non si poteva ormai più fare a meno e poi assolto dalle accuse di violenza sull'ex e punito per le botte un giovane che è andato a processo e a Urbino disordini alla partita Juniores indagini su un gruppo di tifosi un episodio dequalificante veramente per quello che non deve essere lo sport Viale Venezia siamo sempre a Pesaro da lunedì si taglieranno 50 alberi il presidente dell'ASP Spieri dice era una decisione inevitabile le piante sono vecchie e malate ma verranno sostituite Ebbene ora apriamo il giornale all'interno e vediamo cosa succedeva un anno fa 610 ricoverati oggi sono 93 e i numeri parlano chiaro L'effetto vaccini nelle Marche confrontando i dati attuali con quelli tra il 10 e il 19 novembre dell'anno scorso i positivi in tutta la regione erano 14.856 Adesso sono 3620 le vittime erano 83 ora sono soltanto 13 dunque un netto miglioramento Chiudere in casa i vaccinati ingiusto eppure intollerabile è il virologo pesarese Burioni che interviene sulle misure adottate in alcuni paesi L'ondata pandemica rischia di far dimenticare ha dichiarato tutte le altre malattie e questo insomma è grave perché poi ci sono malattie attrettanto gravi quali il covid Lungoviale Venezia 50 alberi da tagliare sono un pericolo Il frutto di un sopralluogo dell'Aspes il presidente Pieri ha dichiarato non mettiamo a rischio i passanti L'abbattimento è previsto da lunedì e poi sono stati sparsi volantini per spiegare ai residenti le motivazioni Si tratta di piante giunte a fine ciclo di per sé la specie in questione ha una vita ridotta rispetto alle altre Ed inoltre in un contesto urbano questa vita si riduce ulteriormente anche per quanto riguarda l'inquinamento e l'usura insomma provocata dal traffico Boschi in città piantando centinaia di nuovi alberi Cipolletta presidente del circolo Ragusello dice si parte il 28 proprio a Celletta Giriamo pagina e vediamo le notizie di cronaca Baby bulli, vandali e studenti sospesi li mettiamo alla prova come volontari Parlano i responsabili del centro servizi del volontariato e dell'hauser Di quest'ultimo è Massimo Ciabocchi del CSV e Tommaso Nobili I due intervengono su due livelli del disagio giovanile Quello delinquenziale e quello educativo Insomma la situazione negli ultimi giorni abbiamo visto si è complicata a quanto Un ragazzo ha dato un pugno in faccia ad un professore Un altro lo ha minacciato Un altro per un altro insegnante Lo ha minacciato di spezzargli le gambe Veramente delle dichiarazioni eclatanti Ebbene allora questi due operatori sociali Ciabocchi e Nobili Dicono abbiamo lavorato a un protocollo d'intesa con i dirigenti scolastici Per fare volontariato agli allunni sospesi per i comportamenti non corretti Prendiamo in carico anche i ragazzi segnalati dal tribunale Spiega il presidente Massimo Ciabocchi Si tratta di una messa alla prova Ovvero una via alternativa per scontare la pena Insomma un espediente educativo che dovrebbe produrre i suoi frutti Le fermate degli autobus presidiate e controlli a sorpresa E' la reazione del direttore di Adria Bus Benedetti Le pattuglie contro i giovani bulli dei bus Ci serviremo anche della vigilanza privata Ha detto il tecnico I primi effetti si dovrebbero cominciare a vedere In campo dunque scenderà una task force Per controllare le tratte da Pesaro verso Urbino E i collegamenti con l'entroterra urbinate Un'azione deterrente predisposta dopo la denuncia Portata all'attenzione di Prefettura e Adria Bus Dai sindacati e dai conducenti Soprattutto di alcune linee della società Bucci Venite nelle farmacie per le terze dosi Solo con il vaccino fuori dall'emergenza E' l'appello di Pieri Che è un po' il portavoce dei farmacisti Intanto dal prossimo 4 dicembre Verrà riaperto il sabato Lab di Gradara Si comincia sabato 4 dicembre E si ripeterà l'11 e il 18 per i successivi sabati del mese Dalle ore 8.30 alle 13.30 Complessivamente circa 300 somministrazioni A seduta tra prenotati e accesso libero E fino alla fine del mese Proseguono anche le tappe dei campi ritineranti Dal lunedì al venerdì Dalle 9.13 nei centri dell'Interland Provincial Il ragazzo non usò la violenza Ma è comunque colpevole per le botte Si tratta di una notizia di cronaca Che parla di un'audienza del Tribunale Questo ragazzo è stato condannato a 10 mesi Per le lesioni provocate alla sua ragazza La giovane Che all'epoca dei fatti era addirittura minorenne E qui c'è un caso completo di sudditanza Di questa ragazza Nonostante che la famiglia l'avesse messa in guardia Avesse cercato in tutti i modi Di distoglierla da questa infatuazione Nonostante le botte ricevute Questa ragazza ha continuato a difendere Il suo ragazzo È un egiziano Che però è stato condannato Perché ha veramente infierito sulla giovane I ladri mettono a suo quadro la casa E trovano la chiave della cassaforte È andata bene a questa gang di ladri Che ha tentato Che ha fatto un colpo in via Badò Nella zona del porto Ha asportato circa 3.000 euro in contanti Gioielli e due orologi del valore da quantificare Ma comunque pari a diverse migliaia di euro E poi ha tentato anche un altro colpo Ma qui è andato non bene come nel primo A Santa Maria delle Fabrecce Si sono dovuti accontentare di una cuffia Apple Solo questo hanno trovato nell'appartamento Che hanno messo a suo quadro Bellucci La mia figura input al PD Come punto di raccordo È una notizia di politica Che si evidenzia come si sta attuando Il cambio della segreteria del Partito Democratico E il consigliere DEM Tende di essere ufficializzato Alla guida della segreteria comunale Pesaro Giampiero Bellucci Già consigliere comunale DEM È lanciato come nuovo segretario comunale Del Partito Democratico Il suo nome è frutto della scelta Per una candidatura unitaria E condivisa alla segreteria comunale Prenderà il posto Della segretaria uscente Francesca Fraternali Vallefoglia Frontino Realizzata la banda ultralarga Frontino esce dall'isolamento Che bella città Frontino Che bel paese Ha barbicato sulle colline del nostro entroterra È il quindicesimo comune Servito dalla infrastruttura Open Fiber Adesso bisogna abbonarsi È stato il vicepresidente della regione Marche E assessore alla digitalizzazione Mirko Carloni Che ha illustrato ieri in videoconferenza Lo stato di avanzamento Del piano bull delle Marche Ovvero banda ultralarga Finanziato con 105 milioni Di fondi PORFES Ovvero fondi che provengono Dalla Europa All'indomani dell'attivazione Del servizio anche nel piccolo comune Di Frontino Dove ci sono 309 abitanti A Urbino Disordini nella partita Under 18 Indagine su un gruppo di falcinorosi Tifosi da Fermignano a Urbino Era un derby Era una gara dell'Under 18 Ebbene i tifosi urbinati Hanno esposto uno striscione offensivo E hanno aggredito un dirigente locale Lo striscione offensivo Non so se si riesce a leggere qui Ma c'è una parolaccia Quindi lo si può anche soltanto immaginare Per quello che è accaduto Ed ora siamo sulla pagina di Fano Ieri c'è stata una conferenza stampa della Lega Che ha denunciato criticità In merito al trasporto scolastico Tundo il comune paga gli stipendi E assicura verifica sugli scuolabus Smorzato l'allarme della Lega Sul servizio di trasporto Il caso però arriva in consiglio Comunque c'è da fare chiarezza Su questo caso alla Lega Sono giunte diverse segnalazioni Per quanto riguarda una situazione critica Degli automezzi Ma non solo degli automezzi Anche del personale Che fa riferimento alla ditta Tundo E quindi la Lega invita L'amministrazione comunale A fare chiarezza A verificare quello che accade All'interno di questo settore Molto importante Soprattutto per rassicurare I genitori dei ragazzi Che vengono trasportati E i genitori Hanno così assistito virtualmente Ieri a una manifestazione Dei loro figli Sono i bambini delle classi Quarte e quinte Del scuolo elementare I fanesi che hanno manifestato Al Pincio In occasione della giornata Internazionale dei diritti Dell'infanzia In questo caso Si è rivendicato il diritto Al gioco Una bella manifestazione Gioiosa Piena di vita Si è cantato Si è giocato E si è anche Evidenziati Sono anche evidenziati Dei problemi Veramente importanti Come quello Della disponibilità Di spazi E di aree verdi Il PD Arriva diviso Al congresso Due candidati Per la segreteria Fanese In questo caso Sono in lizza Della Dora Della Dora Di IDEM Che contende le elezioni A tonti bandini Di futuro democratico E ha previsto A questo proposito È previsto Che le assemblee Degli otto circoli Fanesi Inizino giovedì prossimo 25 novembre E che i lavori Si concludono L'11 dicembre Con la proclamazione Del nuovo segretario Che dovrebbe Prendere il posto Di Bacchiocchi In via Cairoli Altro sfregio Finanziate le telecamere Ebbene Era stato appena Ripulito Il sottopasso Di Viale Cairoli Da un imbrattamento Che ne è subito Succeduto Un altro Un altro Con la bomboletta Spray L'assessora Dice Sono stati Due ragazzi Che hanno detto Che si divertono Così Ed è L'assessora Sob Brunori Che è sicura Un po' Di questo Settore Nella Valmetauro Centrale Idroelettrica Latini Ora cerca Di fare Il mediatore Latini E il presidente Del consiglio Regionale Dino Latini Che ieri ha fatto Un sopralluogo Sul Burano E ha notato Come ci siano Due tesi A confronto Ovvero Quella Dei tecnici Regionali Che lasciano Intendere Di non essere Intenzionati A tornare Sui loro passi Stanno L'opportunità Di risanare Il tratto Di fiume Il Burano Appunto Proprio con La costruzione Della centralina Però A questo Si oppongono Gli ambientalisti I punti salienti Della contrarietà Dei volontari Riguardano La carente Portata Del fiume Che non sarebbe Adatta Ad alimentare La centrale Così almeno Dicono Questi Che sono Contrari E per quanto riguarda Pergola Siamo sulla pagina Della Valcesano Vediamo che c'è Una denuncia In quanto Le telecamere Non funzionano Sono le telecamere Apposte All'ingresso Della città Da un anno Non sono riparate La protesta E dell'opposizione Di Pergola Trascurato Il presidio Anticriminalità A denunciarlo Sono Antonio Baldelli Marta Oradei E Luca Castratori E sono i consiglieri Comunali Di Pergola Nel cuore Giriamo ancora La pagina Siamo su quella Di Senigallia Parte L'autostrada Digitale Un investimento Di 6 milioni Si tratta Di fibra La convenzione Comune Oper Fiber La fibra ottica Raggiungerà Tutte le scuole Veramente Una Una realizzazione Importante Per il mondo Moderno E nel quale Viviamo E poi Una notizia Curiosa Questa qui Di Pergola Di Senigallia I gettoni Della doccia In piscina Sono usati Per lavare Le auto A scrocco Ebbene Non c'è limite Alla fantasia Dall'impianto Di via Pierelli Ne sono spariti Oltre 2000 Pensate Il comune Presenta una denuncia Ai carabinieri Sono gettoni Sono gettoni Riciclati Presumibilmente Proprio Negli autolavaggi Oppure per fare La doccia calda In mare In estate Ebbene Si aggiunge un po' In ritardo Ma alla fine Si è scoperto Come questi gettoni Servivano A tutto un altro scopo Rispetto al quale Erano stati Messi In atto Sul resto Del Carlino Vediamo Che l'apertura È dedicata All'aguato Alla partita Dei ragazzini Tra Fermignano E Urbino Questi tifosi Hanno tentato Di aggredire Un dirigente Della squadra avversaria E organizzano La resa Dei conti In discoteca E poi abbiamo Un fatto Veramente Così Sensibile Terapia VL Per papà È il figlio Di Marco Piccoli Che raccoglie Le foto E ricordi Per cercare Di risvegliare La coscienza Del suo papà Che è stato colpito Da Ictus Era un grande Tifoso Del basket Altre notizie Che vengono Riassunte Della prima pagina Del Carlino La protesta Budget finito A pagamento Le terapie Per la figlia Disabile E poi Il verde Cittadino Che verrà Incrementato Con la sostituzione Di nuovi alberi In Viale Venezia E per quanto riguarda La sanità I controlli Che vengono fatti Nei ristoranti E vediamo Che un ristorante Pesarese E' stato colto In fallo Covid Nuova impennata Di contagi 390 Ma i ricoveri Restano stabili E per quanto riguarda La politica PD regionale Da Roma Arriva il commissario Mentre a Monte Labate Terrorizzati Dai Rottweiler Dei vicini Una famiglia La denuncia Ce li troviamo Davanti a casa Qualcuno intervenga Vediamo Le pagine All'interno Sfogliamo subito Quella che riguarda L'appello Del figlio Di piccoli Di Marco piccoli Eric 37 anni Lo vedete qui Che mostra Alcune foto Del padre Insomma Cerca di risvegliare La sua coscienza Mostrandogli Queste immagini A lui Molto care Quando non mancava mai Agli incontri Della VL Terza dose Subito Le iniezioni Agli over 40 Lo dice L'assessore regionale Alla sanità Filippo Saltamartini Lunedì Si parte Con le prenotazioni Ma anche con le somministrazioni Vogliamo fare Quanti più vaccini Possibili Porte aperte Per tutti Ha detto l'assessore Finora booster Anche a chi Non aveva l'appuntamento Però insomma Si creano anche Dei disagi Per le file Che poi si formano Green pass Quattro multati Sono clienti E ristoratori Dovranno pagare 400 euro A testa In azione Agenti Della municipale In Borghese Di Remigio C'è anche Chi si presenta Col certificato verde Dell'amico E Mario Di Remigio Che parla Del polo pasta e pizza Presidente Dell'associazione Di categoria A multarlo A essere multato È stato un locale Del centro storico Di Pesaro Non viene Identificato Dall'articolo Sono stati Comunque 53 I locali Visitati Dalla municipale E soltanto Uno È risultato Non in regola Giriamo ancora Le pagine E vediamo Come Scusate Un attimo E vediamo Come una famiglia Protesta Perché Alla figlia Disabile Sono state Sospese Le terapie Perché Vengono messe A pagamento Insomma È finito Il budget A disposizione Della istituzione E la famiglia Si trova Ormai In difficoltà Scende in capo La politica Sulla questione Sono intervenuti I consiglieri regionali Baiocchi E Biancani Il circolo Di Ginestreto A rischio Di chiusura I cittadini Riconsegneranno Le chiavi E la licenza Non riusciamo A sostenere Le spese Hanno detto Ricci Valutiamo A farci La sede Del quartiere Belloni Ha assicurato Interventi In strada San Donato E lungo La provinciale Insomma Si cerca Di dare Una nuova Vitalità A questa Struttura E poi Anche qui L'articolo Di Viale Venezia Saranno Abbattuti 50 alberi Pieri Dell'Aspes Di Chiara Erano arrivati Alla fine Del loro ciclo Ma entro La primavera Ne saranno Piantati Altre 69 Quindi Più di quelli Che saranno Abbattuti E saranno Di specie Diverse PD Svolta Unitaria Il candidato Bellucci Sarà L'unico In lizza Per la Segreteria Comunale Mentre A Fano Abbiamo visto Ci sono Due contendenti A Pesoli Invece La candidatura È unico Passo indietro Di Tiberi Dopo che si era Profilata La sfida Con Michele Gambini E qui Vediamo La fotografia Dei tre Protagonisti Timoteo Tiberi Giampiero Bellucci E Michele Gambini Vediamo ora Sulla pagina Di Fano Un articolo Che riguarda Ulteriori Buoni Spesa Che vengono Finanziati Dall'amministrazione Comunale Sia per quanto riguarda I generi alimentari Che per quanto riguarda Gli affitti 600.000 euro Di aiuti La metà Stanziati Dal comune Per acquisto Di generi alimentari E di prima necessità Sono stati evidenziati Ieri Dal sindaco Massimo Seri E dall'assessore Al welfare Di comunità Dimitri Tinti E intanto Parte la colletta Per il centro Di raccolta Distrutto Da un incendio A Centinarola Si cerca Di trovare Fondi Perché L'inverno Incombe E Chi ha bisogno Di vestiti Eventualmente Se il centro Non funziona Non sa Come fare Non sa A chi rivolgersi Falsificato Radicioni Aperta Un'indagine Sembra che Ci siano in giro In città A Fano Dei quadri Falsi Che vengono spacciati Per dei Radicioni Radicioni È stato Un grande Pittore Fanese Ha avuto anche Successo all'estero In modo particolare In Canada Era un grande Carrista Ed era noto Per le sue Teste calve Vediamo qui Un quadro Che ritrae Questi personaggi Di stile Rinascimentale Ma moderno Ebbene Sembra che Una denuncia Sia stata presentata Ai carabinieri Per la tutela Dei beni storici Artistici Ad essere coinvolti Per il momento Sono finuti Alcuni personaggi Noti in città Tra cui Un'ex Stella Dello sport Cittadino E però Le indagini Devono ancora Essere Espletate In modo Esauriente E poi Ancora altri Articoli Che riguardano Fano Exagip C'è la proposta Green Una pavimentazione Anti-smog È stato Messo in archivio Il progetto Che era stato Realizzato Dal consorzio Futuro in ricerca Della università Di Ferrara Ora si tratta Di un nuovo progetto Fatto dai tecnici Interni All'amministrazione Comunale E si cerca Di dargli Una veste Una veste Green Con la Pose in opera Di un Pavimento Con materiale Tecnologicamente Innovativo Una pavimentazione Fotocatalittica Sarà un luogo Per combattere L'inquinamento Provocato dal traffico Automobilistico Le Exagip Fatti in un punto Strategico Per quanto riguarda La confluenza Del traffico Nella città Di Fano A Pergola Sorpresa Il grande fratello È andato In tilt Sei telecamere Installate Nel 2017 Non funzionano Da oltre un anno La minoranza Denuncia Un pericolo Per la collettività E qui vediamo I tre protagonisti Di Pergola nel cuore Che hanno effettuato Questa denuncia E siamo ormai In conclusione Diamo un'occhiata Allo sport Si preannunciano Gare interessanti La vis contro La Carrarese Occhio alla Carrarese In titola Il resto del Carlino Oggi Sanno attaccare bene Il tecnico Banchini Sulla partita Di domani Al Benelli Si inizierà Alle 14.30 Hanno vinto Quanto noi Recuperano Giocatori importanti E sono pericolosi Ha detto Quindi bisogna fare Molta molta attenzione Per quanto riguarda Il Fano Calcio Alma Canta Califano Un passo alla volta E il direttore Dell'area tecnica Ritrova Capellacci Con cui aveva giocato A Giulia Nova E invita la squadra A giocare ogni gara Come fosse una finale Qui vediamo La foto Di due protagonisti Capellacci e Califano Un patto Per l'Alma Gianni Califano Festeggia I 50 anni Con la nomina Direttore Dell'area tecnica Dell'Alma Proprio nel giorno In cui viene presentato Il nuovo allenatore Roberto Capellacci Vuel sotto ai banchi Più attenzione Alla vigilia Di Crebona Il nuovo allenatore Sbotta Non stiamo Lavorando bene Bisogna essere Più esigenti Con se stessi Ha dichiarato Ultima prima Della sosta La partita E in nazionale Il coach Drele Delfino Che si prende Una grande rivincita L'Argentina Lo ha richiamato Bene Era l'ultima notizia Massimo Foghetti Vi saluta Vi augura Una buona giornata E vi dà appuntamento Alla rassegna stampa Di domani Sempre alle ore 7 A risentirci Alla rassegnappi 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 Alla rassegnappi